Spiagge libere, ecco il nuovo protocollo di gestione della regione Abruzzo. Il presidente Marsilio infatti ha firmato l'ordinanza numero 69 dedicata alla riapertura e alla gestione delle spiagge libere per la prossima stagione estiva specificando le competenze dei singoli comuni che in questi giorni avevano fatto presente le difficoltà logistiche ed economiche per garantire sicurezza su chilometri di litorale. Nel nuovo protocollo la regione invita i comuni costieri a predisporre una campagna informativa e di comunicazione per responsabilizzare al massimo i cittadini che dovranno tenere comportamenti conformi per impedire una nuova diffusione di covid-19. Dunque le singole amministrazioni locali dovranno predisporre sistemi di regolamentazione degli accessi alle spiagge con l'uso di cartelli sui comportamenti e le regole da seguire. Le tennis dry o ombrelloni dovranno rispettare le distanze stabilite per gli stabilimenti e le aree dovranno essere costantemente igienizzate. La regione inoltre sollecita le amministrazioni comunali ad affidare in gestione le spiagge ad enti o soggetti in grado di utilizzare personale formato anche con convenzioni con soggetti del terzo settore. Le stesse amministrazioni comunali avranno autonomia nel decidere eventuali restrizioni d'accesso e orari di chiusura degli arenili pubblici. Dunque norme sicuramente molto meno restrittive rispetto alle precedenti.